musica 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 mi abbiamo attaccare eh no no ma che i nemici contento bravo dai ma che cazzo tamperiii io lo sto sobbato uuuu no è one shot vedi se sbaglio un colpo è finita ma fra ma l'ho ucciso io non c'ha senso che lui qual'è sta cosa mi pare dai v i nemici contendono la zona b stiamo catturando bravo il nemico contende bravo vedo una uso un dardo sensore prendiamo zone volti oh mio dio bravo oh cazzo sei punto stanno per finire le vite catturiamo più zone il nemico schiantato no vedi non dovevo fare sto challenge i nemici contendono alfa i nemici contendono alfa i nemici contendono alfa ua b ua b pronto al sorguardo andiamo a lento ua b al 50% la squadra nemica è rimasta senza vite alfa al sicuro abbiamo il controllo totale sei cosa non mi trovo a trovare a tirar l'elstor un lavoro da manuale come da addestramento no 7-1 1-9-3 aspetta schicca il sarm è fortissimo da un colpo il primo 1 l'ho buttato se tutte le zone è diverso è dal solito elstorm ma una pistola ah no devo tenere il premuto si stacom dateci subito un elstorm stanno prendendo bravo viaggio risposto tornato ma qua ci sono delle sege impressionanti qua sono due le cazze di sege uccisione nooo nooo chiamavo l'attacco shopper ah e se già tirano un elstorm non puoi chiamarne un altro ma perchè non posso ah ma per questo sbaglio tasso eh vabbè questa attenzione attenzione e attivo un segnale attivazione sensore il nemico ha finito le vite cioè sono troppo scarsi questi contro dai oh è sdraiato dai caprone no 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 pensavo fosse peggio la scivolata invece mi piace il round è nostro ma non è ancora finita oh questa cosa che l'ha fatto triggerare cosa vuol dire che l'ha provato la kill sempre lui signore terminato tornato ahahah per fortuna che mi dissero non deve essere aggressivo su black ops 4 perchè bisogna giocare più passivi cazzo va quanto custe vai mina ah c'è ah c'era altro torrato io c'ho l'accensione ma che cazzo è vabbè non mi hai riuscito a capire nulla l'avevo usato così bene il tempo c'è vabbè un attento prendiamo bravo ah il drop che non si riesce a far per niente su sto gioco no senza di sparare no il conto è ceduto vabbè 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 allarme è il storm nemico in arrivo il nemico contente bravo prendiamo B prendiamo B fai capissimo un dardo sensore usato un nemico cancellato stanno per finire le vite ah 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 mi sento male bravo è il nostro minaseeker online abbiamo quasi finito le vite ma smette questo mamma mia che fastidioso vi mostro i bersagli no ah l'impulso visibile stavolta è rispondo catturiamo catturiamo vabbè quanto aggressivo hanno finito le vite teneteli sotto pressione ricon deceduto eh che c'è che c'è che c'è che c'è che c'è che c'è no si è girato wow la pistola è stra inconsistent siamo avanti noi